Il 390 velocità, faccia rossa 95, 13, delle ore 11 e 45 per Napoli centrale, è in partenza dal binario. Il 390 velocità, faccia rossa 95, delle ore 11 e 45, delle ore 11 e 45, delle ore 11 e 45. Il 390 velocità, faccia rossa 95, delle ore 11 e 45, delle ore 11 e 45, delle ore 11 e 46, delle ore 11 e 46, delle ore 11 e 44, delle ore 11 e 45, delle ore 11 e 46, di Trento Fallotica spiegamentale, è in partenza dal binario.